Ed ora parliamo dell'aeroporto di Cento Celle, testimone di tante pagine della nostra aeronautica militare. Andrea Marini ne ha ricostruito la storia. Vediamo. Era il 4 novembre 1923 quando la neonata aeronautica militare, la più giovane delle nostre forze armate, fondata sette mesi prima, ricevette dalle mani del capo del governo Benito Mussolini la bandiera di guerra, la quale in realtà era lo stesso drappo del reggimento genio che utilizzava i palloni aerostatici, primo tipo di volo per l'osservazione dei tiri di artiglieria. La cerimonia si tenne in quell'aeroporto di Cento Celle a Roma che pochi anni prima, esattamente il 24 aprile 1909, quando era ancora un campo seminativo dei conti macchi di Cellere, ospitò il primo volo aereo in Europa. Il club degli aviatori, gentiluomini che si alzavano con palloni aerostatici vincolati, si piùrò infatti un contratto di 3 milioni di lire di allora con i fratelli americani Wrights, che sei anni prima avevano per la prima volta volato con una macchina per 36 metri sulla spiaggia di Kitty Hawk. L'oggetto, l'acquisto di una delle loro macchine e l'addestramento di sei piloti. Il volo ci fu da sud verso nord, puntando a vista sulla torre di San Giovanni, oggi sulla Palmiro Togliatti, sorvolata all'altezza di 30 metri. Qualche mese dopo, qui volò anche la prima donna nella storia, la contessa Macchi di Cellere. Per questo l'aeroporto di Centocelle è divenuto un simbolo dell'aeronautica, ospitando sempre essenzialmente scuole di volo. Così qui, questa mattina, si è tenuta la cerimonia del novantesimo anniversario della consegna della bandiera di guerra all'aeronautica militare italiana, che ha altri primati come il primo impiego militare di un aereo durante il conflitto di Libia nel 1911 e purtroppo il primo avviatore morto in guerra, il sottotenente Manzini, brevettato proprio a Centocelle.